Musica 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 questa bellissima situazione in cui finalmente parlare dreaming in modo costruito lo hai detto? Giuseppe grazie e questo è un settore in enorme crescita è un settore continueremo a batterci per visire la possibilità di risolvere controverse dai singoli e le piattaforme in modo da riequilibrare quello squilibrio di poteri contrattuali e poi adesso ci sono le elezioni europee attenzione le elezioni europee è una grande partita per il Movimento 5 Stelle ma anche per questo settore bisogna arrivare in Europa i nostri europarlamentari si imbatteranno perché ci sia a livello europeo a livello di tutte le istituzioni uno slancio in avanti la cosa più importante è andare in Europa e che la prossima legislatura europea sia importante in definitiva perché tutto è in questa direzione di sviluppo grazie davvero per l'attenzione questo percorso che noi come osservatori stiamo facendo con il Movimento sta portando davvero tanto valore e quindi ringrazio moltissimo il Movimento Grazie a tutti 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 Forse dovremmo prendere un po' più la vita come un gioco e prendere il gioco un po' più seriamente come prendiamo la vita Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.